Musica Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano la campagna di vaccinazione che va avanti anche sul territorio della provincia di Salerno. Si parla della possibilità che era stata avanzata dal generale Figliolo di poter avere delle dosi in avanzo da somministrare a dei volontari. Oggi la nostra Barbara Albero è andata all'ospedale Ruggi per capire se effettivamente esiste anche nella città di Salerno la possibilità della famosa panchina in attesa delle dosi che avanzano. Sentite. Più del 70% degli over 80 ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer presso il centro Covid dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno a cui si aggiungono anche altre categorie. Prime somministrazioni ai pazienti risultati positivi al Covid, primi vaccini anche ai pazienti fragili che da venerdì entreranno a pieno regime nel programma vaccinale del centro Covid dell'ospedale di Salerno. A dichiararlo è il dottor Francesco De Caro, responsabile del centro vaccinale dell'ospedale, che ai nostri microfoni conferma la tenuta di un buon ritmo di somministrazioni. In arrivo una doppia quantità di Pfizer rispetto alle forniture settimanali, oltre che le forniture di AstraZeneca. Nessuna panchina libera invece per i ruggi, come indicato poco meno di una settimana fa dal commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, di vaccinare chiunque passi con dosi avanzate. Rare le dosi di vaccino, eventualmente residui a fine giornata, che in ogni caso sono utilizzate sempre a favore di soggetti già inseriti nelle categorie programmate e prenotate. Solo un anticipo di convocazione per la somministrazione e quanto chiarisce ai nostri microfoni il dottore De Caro. Sì, stiamo completando gli ultraottantenni e ci sono altre categorie. Chi non è riuscito ad essere vaccinato nelle giornate scorse, fra personale e sanitario, qualche coda, stiamo facendo la prima dose, chi è stato positivo, e trascorsi tre mesi stiamo facendo l'unica dose necessaria per ottenere l'immunità, come previsto dal decreto ministeriale. E quindi abbiamo messo insieme un po' di persone. Siccome gli ultraottantenni richiedono di un tempo maggiore, noi insieme a loro facciamo arrivare qualcuno comunque nelle categorie che devono essere vaccinate insieme a loro. Il caso AstraZeneca ha un po' rallentato la campagna vaccinale? A noi non ci ha rallentato perché abbiamo interrotto la somministrazione di AstraZeneca, però il calendario li abbiamo riprogrammati in tempo reale, aumentando la quota di ultraottantenni da vaccinare sostanzialmente, e riempiendo quei vuoti che si erano creati improvvisamente, programmando su Pfizer, chiamando altro personale da vaccinare, sempre con Pfizer. Intanto oggi però riprendiamo con AstraZeneca perché noi come azienda ospedaliera è stata affidata la vaccinazione del personale dell'Università di Salerno. Tutti dicono che bisogna fare in fretta e diffondere maggiormente l'inoculazione del vaccino, ma ovviamente ciò non è possibile se non ci sono le fiale sufficienti. Oggi però è previsto proprio un arrivo consistente di Pfizer? Sì, anche da noi arriverà una quantità doppia di vaccini Pfizer rispetto al contingente che ci arriva settimanalmente, oltre che alla consegna di AstraZeneca che è avvenuta nella giornata di ieri per completare il personale universitario. Quindi si sta facendo di tutto a livello centrale per far arrivare quanti più vaccini. E noi ci stiamo organizzando per vaccinare di più, tant'è che inizieremo a vaccinare i fragili entro questa settimana, vaccineremo i nostri dializzati, trapiantati, tutte le persone che ha in carico l'azienda per fragilità particolare, cardiologiche, metaboliche, neoplastiche, e facciamo un calendario e raddoppieremo i turni vaccinali proprio per completare quanto prima queste persone con il vaccino Pfizer. In tanti hanno accolto l'invito lanciato dal generale Figliolo di mettersi in panchina, si dice così, e qualora restasse una dose di potersi vaccinare. È accaduto anche questo qui a Ruggi? Allora, noi le panchine le teniamo già organizzate, nel senso che riusciamo a chiamare le persone del giorno successivo anticipandone qualcuna se dovesse essere necessario. Qualche rarissima sera è capitata, ma abbiamo già un elenco organizzato. Quindi il personale comunque avende diritto, personale sanitario o altro, quella famosa prima dose che dicevamo prima. Quindi nessun paziente comune che si presenta qui e chiede che qualora restasse una dose di poter essere vaccinato? Abbiamo gli elenchi già predisposti, un po' come adesso stanno organizzando in Toscana, noi lo stiamo facendo al primo giorno. Noi per ogni sera abbiamo un elenco di almeno di 10 persone che chiamiamo, ci hanno dato la disponibilità per essere chiamati e li convochiamo alla necessità. Questo l'abbiamo fatto al primo giorno perché non abbiamo mai sprecate dosi perché questo sistema noi l'avevamo già adottato. Intanto a proposito di vaccini, rispetto ad alcuni articoli di giornale che davano per vaccinati alcuni membri dello staff del governatore della regione Campania una nota dell'ufficio stampa fa sapere che sin dall'inizio della campagna vaccinale la somministrazione avviene nel pieno rispetto dei protocolli ufficiali secondo le priorità previste dal piano nazionale. Sulla vicenda si registra anche una nota della rappresentante del Movimento 5 Stelle la vicepresidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino non ho mai condiviso, scrive la scelta del governatore di vaccinarsi per questo aspico che si faccia più presso chiarezza sulla eventualità che pur non rientrando in nessuna categoria a rischio sarebbero stati vaccinati dirigenti e funzionari degli uffici di diretta collaborazione del governatore. Ed intanto è rivolta all'indirizzo del presidente della regione Campania la protesta in programma venerdì 26 marzo a Salerno a Pastena in piazza Caduti di Brescia per chiedere ancora una volta di riaprire le scuole. Chiedere nell'immediato l'apertura delle scuole e di investire la gran parte dei 20 miliardi di euro già previsti dal recovery plan per migliorare la scuola risolvendo i problemi vecchi e nuovi a partire dall'edilizia scolastica ma intervenendo anche per riconnettere gli studenti che hanno abbandonato la scuola e l'obiettivo con il quale i Cobas Scuola insieme a priorità alla scuola e al coordinamento nazionale precari hanno indetto uno sciopero nazionale della scuola il 26 marzo. Il coordinamento Scuole Aperte a Salerno terrà il presidio in piazza Caduti di Brescia a Pastena a partire dalle 10. La Campania ha raggiunto il triste primato con meno di due mesi di lezioni in presenza fa sapere una nota ricordando che in Campania è stata imposta la chiusura delle scuole. Si è scelta la via più facile, si legge nella nota, per le strutture amministrative incapace ma deleteria per le famiglie e gli studenti soprattutto i più piccoli e i portatori di disabilità. Per il coordinamento le scuole vanno subito riaperte tutte come si sta già facendo in altri stati europei che sono in lockdown e per fermare la crescita del tasso di dispersione scolastica già altissimo anche nella città di Salerno senza ignorare che le difficoltà economiche e sociali delle famiglie accresciute dalla pandemia hanno avuto un ruolo determinante in questi ulteriori abbandoni. Una notizia di cronaca, la Polizia di Stato ha arrestato uno spacciatore che effettuava consegne di stupefacenti in città ai suoi clienti in particolare gli agenti della squadra mobile dopo una specifica attività investigativa hanno scoperto che un giovane 23enne Salernitano aveva organizzato una fiorente attività gestita in proprio di spaccio di droga effettuando consegne di stupefacenti in varie zone della città ed in particolare nel rione di Passena parliamo della zona nei pressi di via Zanotti Bianco i poliziotti hanno effettuato un controllo nei pressi della stazione della metropolitana leggera il pusher è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente sia cocaina che hashish ulteriori indagini all'interno della sua abitazione hanno consentito di trovare 196 grammi di droga e anche quasi 500 euro in banconote di vario taglio che gli agenti della polizia considerano frutto dell'attività di spaccio del 23enne adesso apriamo una parentesi sulla politica si anima il dibattito in vista delle elezioni amministrative questa mattina a fare il punto della situazione è stato l'Udc in questo momento e dico in questo momento perché la politica è evoluzione evolutiva e veloce in questo momento al tavolo non siede la componente di Fratelli d'Italia perché ha scelto di appoggiare la candidatura dell'avvocato Michele Sarno un ottimo professionista ma che non ha la condivisione delle varie componenti del centro-destra l'Udc punta sempre a scegliere un candidato unico con il centro-destra anche dopo la scelta di Fratelli d'Italia di appoggiare il candidato sindaco Michele Sarno chiesta la convocazione urgente di un tavolo per ridiscutere in ogni caso non solo della candidatura dell'avvocato penalista salernitano ma allo stesso tempo di trovare un nome che unisca tutti e che possa portare a vincere questa competizione elettorale così questa mattina Mario Polichetti segretario provinciale dell'Udc di Salerno che nel corso di un incontro ha voluto chiarire la posizione del partito alle prossime amministrative in programma nelle principali città salernitane in conferenza stampa insieme al vice segretario Maria De Caro ha chiarito le dinamiche che in questi giorni staranno caratterizzando il dibattito politico in provincia non è il nostro modo di imporre nomi ma ci piace ragionare sui programmi ha detto Polichetti e come Udc siamo pronti anche a fare passi indietro in tutte e tre le città principali pur di privilegiare il bene comune che resta quello di governare i territori impoveriti da una politica priva di temi negli ultimi 25 anni a Salerno i nomi proposti dall'Udc sono Aniello Salzano, Salvatore Memoli e Leo Bore a Battipaia appoggio totale ad Antonio Visconti mentre su Eboli sostegno a Dammeano Cardiello con la possibile candidatura di una donna se ci saranno eventuali condizioni nei giorni scorsi abbiamo contattato personalità di spicco della città di Salerno come l'avvocato senatore Borea che ha dato la propria disponibilità per la verità c'era un discorso aperto come candidato a sindaco e io dai vostri microfoni attraverso le vostre telecamere ribadisco che noi volevamo candidare Memoli Salvatore Memoli volevamo candidarlo come sindaco proporre il suo nome come sindaco della sindaco Udc nella coalizione centrodestra un manager pubblico con una storia di indiscussa di indiscusso valore, di indiscusso spessore e poi diciamo verranno anche altri nomi giovani professionisti che io non voglio assolutamente sacrificare in questo momento alle vostre telecamere però vi assicuro che abbiamo delle sorprese in serbo per voi Forza Italia ha detto no a Cammarota non dimentichiamo che c'è l'altro candidato Cammarota Michele Sarno le faceva riferimento a Salvatore Memoli che abbiamo visto presente in conferenza stampa e quindi fa pensare ad un appoggio a Michele Sarno questo perché ancora si valuta la possibilità di un altro nome che possa mettere insieme anche Forza Italia si era fatto il nome di Michele Tedesco di cui non c'è l'ufficializzazione di alcuna candidatura Perfetto, il nome di Tedesco, dell'avvocato Tedesco l'abbiamo accolto con piacere perché è un professionista di indiscusso valore rappresenta un nome preso dalla società civile nell'ambito delle categorie professionali persona sicuramente di spicco noi se fosse questo il nome ne discuteremo con piacere al tavolo di centrodestra anche perché mi risulta che sul nome dell'avvocato tedesco ci sia la convergenza anche di una ampia fetta della società civile anche credo del gruppo di consiglieri che ha abbandonato la maggioranza del sindaco uscente Napoli Parliamo adesso invece del braccio di ferro che va avanti ormai da anni tra il Comitato Salute e Vita e le Fonderie Pisano il Comitato presieduto da Lorenzo Forte parla di una nuova piccola e importante battaglia vinta quella per poter accedere alla relazione totale sullo studio spesso quello relativo alla popolazione residente nei pressi delle Fonderie Pisano C'è un nuovo provvedimento del Tribunale Amministrativo che impone all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno la consegna delle relazioni mancanti e di quella finale sullo studio di esposizione nella popolazione suscettibile relativo all'area che circonda le Fonderie Pisano di Salerno il Comitato Salute e Vita festeggia e parla di una nuova importante vittoria nella battaglia per fare luce sull'inquinamento e sulle possibili conseguenze alla salute dei residenti esprimiamo molta soddisfazione e siamo fiduciosi ha dichiarato Lorenzo Forte alla guida del Comitato nei prossimi giorni potremo entrare in possesso di tutta la documentazione che rappresenta un tassello fondamentale che ci permetterà come associazione insieme al Comune di Pellezzano di conoscere tutta la verità sull'inquinamento il Comitato ha colto l'occasione per stigmatizzare nella stessa nota l'atteggiamento di alcune istituzioni l'ASL pur firmataria del protocollo di intesa dello SPES dal 2017 scrive il Comitato non ha mai chiesto né fatto pressioni per avere risultati dello studio SPES ma critiche sono state rivolte anche alla Regione Campania che nell'aprile del 2020 come ricorda il Comitato Salute e Vita in pieno lockdown ha concesso l'autorizzazione integrata ambientale con la quale ha permesso alle Fonderie di continuare a restare aperte critiche anche al Comune di Salerno che non ha mai fatto dichiarazioni né pressioni per avere tali risultati nonostante la legge lo configuri come primo responsabile per la salute dei suoi cittadini dall'altro canto va però ricordato che le istituzioni tirate in ballo dal Comitato in maniera congiunta dieci giorni fa hanno tenuto una riunione con i vertici dell'azienda per mettere nero su bianco i presupposti per delocalizzare lo stabilimento industriale nell'area di Buccino la nascita della nuova fabbrica potrebbe rappresentare al netto dell'opposizione forte che si sta già registrando nell'intera area del cratere individuata per il nuovo stabilimento delle Fonderie Pisano l'unica vera soluzione per Comitato e residenti di Fratte dal Comune di Salerno arriva invece una buona notizia in ambito ambientale perché oggi è stata avviata la piantumazione di 16 nuovi alberi si tratta delle piante che erano state sradicate dalla tromba d'aria dello scorso settembre furono cancellate in pochi minuti con un piccolo tornado la tromba d'aria dello scorso 25 settembre abbatte tutte le piante di piazza Ovidio Serino l'area che si trova di fronte alla scuola alimentare Carlo Alberto Alemagna dopo un intervento che ha consentito di riqualificare l'intera piazza completamente distrutta dallo sradicamento delle alberature il Comune di Salerno questa mattina ha avviato i lavori per piantumare 16 nuovi alberi 7 verranno messi qui in piazza Ovidio Serino 9 andranno in via Posidonia si tratta di esemplari di Acer Rubrum particolarmente adatti si legge in una nota dell'amministrazione comunale per caratteristiche arboree alle condizioni climatiche ed urbanistiche di Salerno gli alberi potranno raggiungere un'altezza di 10 metri ed una larghezza di chioma di 12 metri avranno anche un gradevole aspetto estetico anche grazie all'intensa colorazione del fogliame il Comune di Salerno continua la nota impegnato a garantire una gestione dinamica e sostenibile del patrimonio arborio cittadino assicurando la manutenzione delle piante la rimozione di quelle malate e pericolanti la sostituzione progressiva delle specie arboree non più compatibili con lo sviluppo urbano della città una nota che risponde tra le righe anche alle numerose polemiche sorte nel comune capoluogo dopo la decisione di abbattere dei platani malati in via generale Clark dove sono in corso dei lavori di riqualificazione dell'area ex marzotto intanto a proposito di ambiente continua anche la battaglia di Salerno pulita contro i cercatori di metallo così è stato definito il fenomeno di coloro i quali aprono i sacchi dell'indifferenziato conferiti il lunedì sera costringendo ad un duro lavoro gli operatori della società che si occupa della raccolta dei rifiuti il giorno dopo il conferimento con un reportage fotografico anche oggi gli operatori di Salerno pulita mostrano cosa hanno trovato le foto si riferiscono a via buongiorno qui stiamo vedendo delle immagini di archivio nella zona orientale della città le busse sono aperte di rifiuti fuori a terra tra i rifiuti si vedono anche delle siringhe la società che si occupa della raccolta differenziata nel comune capoluogo ricorda che tra l'altro gli operatori sarebbero tenuti solo allo svuotamento dei carrellati Baronissi invece raggiunge l'82% di rifiuti urbani differenziato ed è stato selezionato tra i comuni più virtuosi d'Italia per prendere parte ad un'indagine sul servizio di igiene ambientale messo appunto nell'anno della pandemia la ricerca servirà a raccogliere informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani e degli imballaggi nel 2020 un segnale importante che il comune di Baronissi sia stato scelto tra una selezione di città virtuose ha sottolineato il sindaco Gianfranco Valeante parlando di un riconoscimento significativo per l'amministrazione ma anche per tutti i cittadini che ogni giorno si impegnano nella corretta differenziazione dei rifiuti a proposito di ambienti andiamo a Vietri sul mare botta e risposta tra il sindaco ed un gruppo di consiglieri sulla possibile installazione di un'antenna per la telefonia mobile a Vietri sul mare torna in auge la polemica relativa all'inquinamento elettromagnetico che interessa in particolar modo la frazione di Dragonea nei giorni scorsi i consiglieri di opposizione del gruppo l'alternativa Maurizio Celenta Antonella Scannapico Alessosi e Detillo Antonietta Remondi hanno protocollato un'istanza presso il comune richiedendo l'adozione di misure di pianificazione comunale affinché sia regolata l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici generati dagli impianti di radio e telecomunicazioni presenti sul territorio secondo i consiglieri comunali di minoranza il comune lo scorso mese di gennaio avrebbe autorizzato l'operatore telefonico Iliad all'installazione di un alloggio di impianti in via Vallone alla frazione di Dragonea per la fruizione del segnale di telefonia mobile tale richiesta di autorizzazione sostiene ancora il gruppo l'alternativa non sarebbe stata accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche previste dalla legge constatato che tali impianti sono presenti in numero elevato sul territorio con alta concentrazione proprio a Dragonea i consiglieri chiedono l'adozione di un regolamento o di un piano comunale tecnicamente valido che assicuri il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e riduca l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prevedendo l'installazione di centraline per monitorare le emissioni il censimento degli impianti già presenti sul territorio e la necessità di riesaminare i siti già autorizzati prevedendo delle localizzazioni in base al piano successivamente approvato e sulla vicenda non si è fatta attendere la replica piccata del sindaco Giovanni De Simone il quale ha fatto sapere che al momento non è stata rilasciata alcuna autorizzazione da parte del comune ma che si tratta soltanto di un aggiornamento tecnologico di un impianto esistente della Wind3 autorizzato nel 2006 con parere della sovrintendenza su un terreno privato e che è stata presentata istanza di svingolo idrogeologico alla comunità montana la pratica deve essere ancora esaminata dalla commissione edilizia e poi nel caso di bocciatura sarà necessario il parere della sovrintendenza e poi dell'ARPAC soltanto dopo la conclusione dell'iter la comunità montana potrà rilasciare eventualmente lo svingolo idrogeologico la maggioranza ha commentato il sindaco De Simone è attenta a questi problemi ed è pronta ad aprire un confronto anche con la minoranza al fine di trovare il metodo migliore per poter garantire il monitoraggio del territorio per quelle che sono le situazioni legate agli impianti di telecomunicazione arriva l'attenzione del ministro Di Maio la vicenda che riguarda un papà di Teggiano da due anni impossibilitato a vedere la figlia portata in Russia dalla mamma a sollecitare un intervento del governo italiano è stato il consigliere regionale Tommaso Pellegrino un padre che non può riabbracciare la sua bambina la bimba contesa tra genitori di diversa nazionalità un uomo di Teggiano Luigi Di Salvio da oltre due anni non vede la sua bimba portata via dalla madre di origini russe che è tornata nel suo paese nel settembre del 2018 la piccola cittadina italiana era partita insieme alla mamma per una vacanza per poi sparire nel nulla senza che il suo papà potesse ricevere notizie della piccola né tantomeno riabbracciarla costringendo il genitore tegianese a rivolgersi all'avvocato Enrico D'Amato per aiutarlo a riportare a casa la piccola su questa vicenda è intervenuto il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che ha chiesto l'intervento del ministro degli esteri Di Maio affinché si impegni per ottenere il rimpatrio della bimba in qualità di padre consigliere regionale in campagna scrive Pellegrino sento il dovere di porre all'attenzione la delicata vicenda del nostro concittadino Luigi Di Salvio di Teggiano in provincia di Salerno che sta vivendo da due anni una drammatica situazione di ingiustizia in Russia situazione molto grave se pensiamo che la prima vittima è una minore di soli 4 anni cittadina italiana che si trova dal mese di settembre 2018 in Russia dove la sua ex moglie russa l'ha portata e poi trattenuta l'assenza e il consenso del padre il consigliere regionale sassanese spiega nella nota indirizzata al ministro degli esteri che le autorità russe e la suprema corte russa hanno riconosciuto il reato di sottrazione di minore nonostante ciò la polizia giudiziaria russa non è stata ancora in grado di eseguire le disposizioni della sentenza operazioni ulteriormente bloccate con il diffondersi della pandemia in un anno e mezzo si legge ancora nella lettera da quando ha preso avvio la fase esecutiva in Russia l'interessamento delle autorità consolari italiane si deve concludere che è stato sostanzialmente inefficace l'ordine dato dal giudice russo è chiaro e sono chiari altresì i dettami degli accordi bilaterali tra Italia e Russia in tema di cooperazione legale e giudiziaria da qui la richiesta del consigliere regionale pellegrino rivolta a Di Maio affinché vengano interessati tutti gli organi competenti a tutela dei diritti di un padre italiano di rivedere la sua bambina e poter così procedere al rimpatrio della piccola adesso ci sono le nostre previsioni del tempo in collaborazione con a Salerno dal 1982 Ippocar officina e ricambi meccanici specialisti nell'installazione di impianti a gas GPL e metano Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato officina meccanica revisione bombole metano ricarica aria condizionata montaggio gancio traino meccatronica e diagnostica di ultima generazione ricambi elettrici meccanici batterie auto e moto e inoltre Ippocar e punto pro autoservice servizio tagliandi auto in garanzia Ippocar via Pietro del pezzo 55 nuova sede di efficienza 94 100 previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita nel pomeriggio sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita previsioni del tempo fornite da 3B Meteo eccoci alla parte del nostro TG che riguarda l'informazione sportiva in primo piano il calcio con la serie B che tira fiato prima della volata finale dopo la sosta ci saranno otto partite in poco più di un mese la salernitana comincerà da Lecce lo sprint di primavera in cui saranno in palio promozione diretta e posti nella griglia playoff l'ultima sosta del campionato consente di tirare il fiato ma al tempo stesso spezza un po' il ritmo a chi stava viaggiando col vento in poppa alla ripresa del torneo si ritroveranno di fronte per esempio Lecce e Salernitana seconda e terza della classe tutte e due in un gran bel momento di forma costretti a fermarsi per esigenze di calendario e ad incrociare le dita per i calciatori che dovranno rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali le squadre di Corini e Castori daranno vita al primo scontro diretto dal sapore quasi decisivo che ci attende nella volata di primavera la salernitana giocherà al via del mare il 2 aprile per poi affrontare in casa Pasquette il frosinone che ha esonerato Nessa per far posto a Grosso successivamente la squadra Granata renderà visita alla pericolante Virtus Entella per poi ricevere alla Rechi nel breve volgere di pochi giorni il Venezia ed il Monza al momento quinta e quarta forza del campionato nelle ultime tre partite in calendario la salernitana sarà di scena a Pordenone poi riceverà l'Empoli e chiuderà infine sul campo del Pescara otto tappe da affrontare senza fare troppi calcoli perché scontri diretti ed incroci pericolosi potrebbero di volta in volta delineare scenari che al momento non si possono immaginare di sicuro a Lecce sarà una partita di grande importanza a cui la salernitana dovrà arrivare preparata nei minimi dettagli la solidità difensiva dei Granata e la prolificità offensiva dei salentini promettono già tanto la prima delle ultime otto tappe potrebbe essere anche la più importante Lasciamo il calcio ci occupiamo di basket domani la Givova Scafati chiuderà la stagione regolare con il recupero contro Ferrara la gara è in programma al Palamangano la squadra di Finelli vuole vincere per chiudere in bellezza la prima parte della stagione Sì siamo contenti di questo ruolino che abbiamo avuto negli ultimi mesi soprattutto in queste partite ravvicinate domani sarà la sesta in 17 giorni penso che la squadra sia sempre scesa in campo in maniera eccellente contro Napoli è stata una partita difficile dal punto di vista offensivo ma credo che alla fine la partita ha dimostrato che ce la siamo giocata alla parissima e ora ci mancano queste ultime due partite per completare questa prima parte di stagione secondo me molto buona Sì domani sarà una partita tosta contro una squadra che torna da un periodo lungo di stop sicuramente la vittoria ci garantirebbe il terzo posto però andremo a incontrare comunque una squadra molto molto forte quale a Torino e nel caso dovesse vincere poi uno dei suoi due scontri quindi secondo me è una partita più per noi che poi per la classifica di per sé perché la Coppa Italia sarà comunque una competizione a sé e tutti gli avversari che incontreremo saranno di super livello ma secondo me sono una delle squadre più forti del nostro girone sicuramente di tutto il campionato hanno un reparto lunghi italiano che poche squadre possono eguagliare io ho giocato insieme a Patrick Baldassarre ho giocato insieme a Luca Vencato sono giocatori di altissima caratura secondo me una delle squadre come ho detto veramente forti hanno avuto qualche inciampo durante il campionato vuoi per loro demeriti o vuoi per sfortune fisiche ma credo che avranno una diranno la loro durante i playoff che da qui alla fine insomma ci sono ancora tante partite da giocare e secondo me potranno essere veramente la mina vacante dei playoff ancora basket in serie B va avanti la fase ad orologio reduce dalla bella e convincente vittoria interna ai danni del Monopoli la Virtus Rechi vuole concedere il bis contro un'altra compagine pugliese domani la squadra di Coccio Parrillo sarà di scena a Bisceglie innanzitutto ovviamente mi fa molto piacere ritornare a Bisceglie perché ho tanti amici detto questo però per noi sarà una partita importantissima per proseguire nella marcia di risalita è una partita l'ho detta con i miei ragazzi già da playoff si può dire perché vale veramente tanto e noi vogliamo continuare sulla strada tracciata domenica scorsa ma buon approccio con Monopoli ci ha dato già la possibilità di centellinare un pochettino tutti soprattutto chi aveva qualche acciacco fisico secondo me il modo migliore è vincere perché le vittorie portano energia portano entusiasmo ed è quello che noi vogliamo fare ovviamente già mercoledì per poi prepararci bene per la successiva termina qui il nostro appuntamento con l'informazione non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi arrivederci vuoi rivedere questo problema visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand e clicca su e clicca su